Sì, sì, si vede dal piatto, si vede. Aspetta, bisogna guardare anche il cameriere, no? Questa è il rombo, la spaghetta alla chitarra con rombo e pomodorina, il rombo viene colto al forno, la pomodorina è fresca, si lascia un po' più lungo, poi con lo stesso sumo, magari non rompo, non c'è la pasta. Buono, buono! Poi viene, si vede dal piatto, si vede dal piatto. Guanciale, guanciale. Guanciale è guanciale. Grazie. Buongiorno. Scusate. Guanciale. Ok, ecco. Abbacassi come un'altra? Bravo, bravo, sì si. Ci pesca, vero? Sì. Buon appetito! Buon appetito! Buon appetito! Buon appetito! Buon appetito! Buon appetito! Buon appetito!